A tutti voi buonasera dal Tg Max. Occorrerà la richiesta di calamità naturale di grande proporzione per poter attingere al fondo di solidarietà dell'Unione Europea e pagare così i danni causati dal maltempo. Oggi a Bruxelles si è tenuto un incontro proprio per parlare di tempi e modalità. È appena cominciata la conta dei danni provocati dall'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito tutta l'Italia. Oggi a Bruxelles, promosso dal vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani, di concerto con il presidente Gianni Chiodi e i presidenti delle regioni Lazio e Molise, si è tenuto un incontro presso il gabinetto del vicepresidente sulla calamità che ha colpito l'intero centro Italia, valutando tempi e modalità per accedere al Fondo Europeo di Solidarietà. La regione, ha precisato Chiodi, ha attivato da subito tutte le procedure edonie per dar seguito a quanto previsto dalla normativa dell'Unione. Da qui la necessità di una collaborazione interistituzionale, di un coordinamento tra regioni che consentirà di stringere i tempi e di arrivare al più presto all'assegnazione dei fondi. Nel corso della riunione è stata infatti confermata la necessità di presentare una richiesta comune di tutte le regioni per calamità naturale di grande proporzione. In questo caso la stima globale dei danni deve raggiungere i 3 miliardi di euro, che rappresenta la soglia minima tra danni pubblici e quelli privati, di quelli reali e quelli economici futuri stimabili e direttamente collegati all'evento. In questo caso, agli eventi di questi giorni possono essere accomunati anche le eventuali calamità dei prossimi giorni e anche delle altre regioni oggi non coinvolte. La richiesta di calamità naturale di grande proporzione dovrà essere presentata dallo Stato membro entro e non oltre le 10 settimane dall'inizio della calamità. Potrebbe essere preso come riferimento il decreto di calamità emesso dal Governo. Le spese leggibili sono quelle pubbliche, cioè quelle non assicurabili dai privati. Ripristino immediato delle infrastrutture e delle attrezzature come elettricità, rete idrica e fognaria, trasporti, viabilità, telecomunicazioni, sanità e istruzione. Intervento della protezione civile, vigi del fuoco e volontari, spese per raggiungimento dei villaggi isolati, elicotteri, spese per il primo intervento alle popolazioni come passi, medicine e generi di prima necessità, riapertura di aeroporti, porti, protezioni e beni culturali, ripulitura delle zone danneggiate ed eventuali danni successivi, come ad esempio quelli provocati dalle valanghe. In questo caso il Fondo di Solidarietà può intervenire fino al 2,5% dei danni globali stimati. Nel caso non si raggiungesse con la stima totale dei danni la cifra di 3 miliardi di euro, la richiesta sarebbe di disastro straordinario di carattere regionale. In ogni caso si dovrebbe presentare la domanda per tutte le regioni coinvolte e si deve delimitare una zona unica dell'evento calamitoso. Le spese leggibili sono le stesse delle calamità naturali di grandi proporzioni. In questo caso il Fondo di Solidarietà interviene per un massimo di 75 milioni di euro. Il riconoscimento delle spese sarà retroattivo a partire dalla data del primo giorno di calamità. Intanto i presidenti delle regioni che hanno subito gli effetti nefassi del maltempo stanno pressando il governo centrale affinché ci sia il differimento degli adempimenti fiscali. E sono enormi anche i danni che il maltempo ha provocato al mondo agricolo. Non è facile però la procedura per ottenerne il rimborso. Sentiamo. Attualmente, Assessore, quali sono le possibilità connesse al riconoscimento dello stato di calamità naturale in agricoltura? Io intanto vorrei chiarirlo anche a livello generale perché qua si sta continuando a pensare che lo Stato, come una volta eragisse continuamente fondi, non è più così. C'è un decreto che disciplina tutta la normativa, un decreto del 2004, che poi è stato ulteriormente appesandito dal punto di vista che lo Stato interviene in maniera solo successiva ad una serie di passaggi nel 2008 con il ministro Tremonti. Quando c'è lo Stato di calamità ogni ente deve intervenire con i propri fondi e a scalare si arriva fino allo Stato. Quindi quando allo Stato si dimostra che i comuni hanno impegnato tutti i fondi disponibili, quando le province hanno impegnato tutti i fondi, quando la regione ha impegnato tutti i fondi, interviene lo Stato. Quindi è una cosa abbastanza complicata. Per quanto riguarda l'agricoltura il problema è ancora più serio perché oggi in agricoltura sono previste le assicurazioni. Peraltro sulle assicurazioni c'è un contributo a monte nazionale e poi c'è anche un contributo regionale. Per cui c'è l'invito da parte delle istituzioni al mondo imprenditoriale agricolo di affarsi le assicurazioni. Quindi intervenire sui danni in agricoltura è complicatissimo. Dobbiamo aspettare, una volta dichiarato allo Stato di calamità, dovranno essere fatti gli inventari che devono certificare che quei danni sono danni che non potevano essere assicurati in maniera diversa. Scuole di ogni ordine e grado e da Siri resteranno chiusi anche domani e dopo domani a Chieti lo dispone un'ordinanza del Sindaco. La messa in sicurezza delle scuole e delle relative strade di accesso è ancora in itinere e i lavori di rimozione sono rallentati dall'abbondante presenza di ghiaccio, dalle auto parcheggiate e da grossi cumuli di neve nei pressi di vari istituti scolastici e soprattutto sui tetti dei plessi e sui marciapiedi. Il Sindaco di Primio ha anche disposto alla sospensione dei mercati settimanali in programma domani e il prossimo 17 febbraio. Viaggio del Tg Max nel Medio Aventino, tanta la neve accumulata nei giorni scorsi ma nessuna lamentela. C'è stata l'emergenza, oggi gli amministratori locali raccontano di come ce l'hanno fatta da soli. La neve non è mancata neppure nel Medio Aventino. Dopo giorni di precipitazioni è il bianco a caratterizzare il paesaggio di cime e colli della Maiella, illuminato da una splendida giornata di sole. Dal metro in su il livello della neve che ha ricoperto i piccoli centri montani di Monte Nero Domo, Torricella Peligna, Gesso Palena e anche Casoli e Rocca Scalegna. Qui nessuno si è lamentato, i cittadini continuano a spallare neve e ghiaccio accanto ai propri portoni e negozi. La neve non è certo una rarità da queste parti, anche se quest'anno ne ha fatta davvero tanta e per molti giorni consecutivi. Pulite le strade provinciali e comunali, ognuno si rimbocca le maniche e si dà da fare per alleviare i propri disagi. Qui nessuna amministratore investirebbe fondi comunali per rimuovere la neve accumulata ai margini delle strade, come accade invece nei paesi verso la costa. Semplicemente si attende che siano pioggia, sole e temperature più umidi a fare il lavoro che la natura ha loro assegnato. Antonio Innaurato, sindaco di Gesso Palena e presidente della comunità montana Medio Aventino. Abbiamo seguito una priorità, quello di liberare prima le strade comunali e quindi dà la possibilità di poter raggiungere tutti gli abitati, considerando che ci sono dei comuni come il nostro che hanno oltre 160 km di strade comunali su un'estensione di circa 32 km quadrati, quindi siamo come Pescara come estensione. Una densità abitativa molto minore, ricordiamo che i residenti sono circa 1.600. Sì, questo è vero, però è pur vero che bisogna raggiungere tutti gli abitati, quindi garantire il soccorso almeno nelle 24 ore, garantire quindi la possibilità di poter raggiungere quelle case dove ci sono persone anziane, malate oppure hanno bisogno di un soccorso. C'è stata l'emergenza, l'unica lamentela, l'amministratore locale la rivolge alle istituzioni regionali. Se fossimo dovuti attenerci alle disposizioni della protezione civile, probabilmente saremmo rimasti senza sale, quindi non era un bene di immediata necessità perché eravamo provvisti, ma se ripensiamo a quello che è avvenuto veramente ci viene da sorridere adesso. Perché? Che cosa lamentate? Perché abbiamo dato la disponibilità ad avere questo materiale che per alcuni versi è importante, nel senso che ci garantisce quando esce il sole come oggi di poter spandere e quindi garantire un maggiore traffico delle macchine perché è importante, soprattutto nelle zone impervie. Purtroppo stiamo ancora aspettando, dal primo giorno sono passati circa a dieci giorni. Voltiamo pagina, sit-in di protesta questa mattina a Pescara in occasione del Consiglio regionale contro la realizzazione del gasdotto SNAM. Ambientalisti e cittadini della Valle Peligna chiedono alla regione di bloccare l'iter di approvazione e scegliere un percorso alternativo. Sentiamo. Gelo e neve non hanno fermato ambientalisti e cittadini della Valle Peligna, contraria alla realizzazione del gasdotto SNAM a Sulmona. Sfidando il freddo pungente hanno dato luogo ad un sit-in di protesta a Pescara davanti a Palazzo di Città, dove era in corso il Consiglio regionale, sotto accusa il tratto umbro-abruzzese dell'opera Brindisi Minervio. Il gasdotto in Abruzzo attraverserebbe un tratto lungo 103 chilometri in territorio ad alto rischio sismico, ha dichiarato Mario Pizzolla, portavoce dei Comitati Cittadini per l'Ambiente di Sulmona. Inoltre l'opera creerebbe problemi ambientali al progetto Appennino Parco d'Europa per la valorizzazione della biodiversità nella nostra regione. Per questo, spiega ancora, chiediamo alla regione di esprimere parere contrario all'opera di sospendere l'iter di approvazione e di attivare un tavolo nazionale che elabori un percorso alternativo attraverso l'Adriatico. È assurdo che questo metanodotto passi per esempio lungo tutte le città e i paesi già devastati dal tremendo sisma del 6 aprile del 2009. In più a Sulmona la SNAM vuole realizzare anche la centrale di compressione che attraverso le proprie, diciamo, le fonte di inquinamento della centrale provocerebbe anche dei seri problemi alla salute dei cittadini. Per questo noi chiediamo un impegno serio e preciso, concreto da parte della regione oggi qui. E all'unanimità i consiglieri regionali hanno approvato una risoluzione sul progetto del gasdotto SNAM con la quale si impegna il Presidente Chiodi ad addempiere ad una serie di prescrizioni, trasmissioni al Ministero dello Sviluppo Economico del parere contrario della regione sull'attuale progetto del gasdotto e della centrale che la SNAM vorrebbe realizzare in Vale Peligna richiesta di fermare l'iter e disporre la modifica del tracciato, richiesta al Governo centrale di istituire un tavolo tra tutti i soggetti interessati al fine di individuare una risoluzione alternativa sia per il gasdotto che per la centrale di compressione. E a proposito di gas, un'esplosione causata appunto da una fuga di gas in una palazzina di tre piani a Carsoli ha provocato un ferito e l'evacuazione dello stabile di 10 famiglie tratte in salvo dai vigi del fuoco di Avezzano. Il fatto è accaduto intorno alle 4 di notte. La deflagrazione è avvenuta al piano terra, distrutto dall'esplosione, mentre nei piani sovrastanti sono state danneggiate soprattutto porte e finestre, rimaste bloccate durante l'incendio. A liberare gli inquilini rimasti isolati nei loro appartamenti sono stati i vigi del fuoco che hanno evacuato la palazzina e poi domato l'incendio. Lo stabile è stato dichiarato inagibile. La persona ferita che ha riportato usioni su gran parte del corpo è stata trasportata dal 118 all'ospedale di Avezzano. Potrebbe slittare di tre anni la riforma dei cosiddetti tribunali minori che rischiavano la chiusura. Nella notte è stato infatti approvato in commissione bilancio affari costituzionali del Senato un emendamento inserito nel mille proroghe sul quale comunque domani verrà votata la fiducia in Senato. I tribunali di Lanciano, Vasto, Sulmone e Avezzano sono quasi salvi. Nella notte infatti è stato approvato in commissione bilancio affari costituzionali del Senato un emendamento che proroga di tre anni la riforma delle circoscrizioni giudiziarie delle province di Chieti e L'Aquila. L'emendamento è stato inserito nel mille proroghe su cui domani verrà votata la fiducia in Senato. Quindi i giochi non sono ancora fatti. La proposta è stata motivata con i danni provocati ai tribunali delle due province dal terremoto del 2009 e votato all'unanimità dai membri della commissione bilancio. Un chiaro esempio, dichiara il senatore del PDL Fabrizio Di Stefano, di come l'impegno bipartisan su un problema del territorio possa trovare adeguata risposta. Ciò scongiura le lotte di campanile tra le varie sedi giudiziari interessate, prosegue Di Stefano, dando invece il tempo necessario a tutte le nostre strutture di elaborare un progetto complessivo che colga a pieno il senso della legge delega e che al tempo stesso non scompensi il territorio abruzzese. Nei mesi scorsi sia il Consiglio regionale che quelli comunali delle città interessate si erano espressi contro la chiusura dei tribunali minori. Il Comune di Lanciano aveva anche elaborato un progetto di accorpamento con il Tribunale di Vasto, presentato il mese scorso al Ministero della Giustizia. Siamo prudentemente ottimisti, ha detto il Sindaco di Lanciano Mario Pupillo. La partita non è ancora chiusa, anche se la richiesta del voto di fiducia in Senato gioca a nostro favore. Non ci resta che attendere l'esito del voto, augurandoci che la riforma possa slittare. Un albanese di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri di Lanciano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, insospettiti dal via Vaida, un locale del centro di Lanciano, hanno perquisito la casa dell'uomo trovando la droga, 112 grammi di cocaina, chiusa in un armadietto e già pronta per lo spaccio. Dopo una serie di accertamenti sulla sua identità, i carabinieri hanno anche scoperto che l'uomo in passato era stato interessato da un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito dell'operazione Santo Graal, in quanto ritenuto dalla DIA di Firenze responsabile di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga tra l'Albania e l'Italia. A Gesso Palena oggi si celebra il Santo Patrono San Valentino, anche se non è certo che sia proprio quello degli innamorati. Non si sa se è proprio lo stesso al quale si rivolgono gli innamorati, ma a Gesso Palena oggi si festeggia San Valentino. La statua del Santo Patrono è esposta nella navata laterale della chiesa parrocchiale ubicata in piazza e intitolata al Santo e a Santa Maria dei Raccomandati. La chiesa custodisce anche una reliquia di San Valentino, esposta però raramente. Alcune considerazioni storiche in merito al Santo Patrono, venerato nel piccolo centro del Medio Aventino, le registra il Tg Max dal professor Nicola Cavaliere, storico di Gesso Palena. È difficile stabilire a quale San Valentino ci si debba riferire, al martire o al vescomo. C'era Donnerio di Sipio, attuale parroco della cattedrale di Chieti, che fino a quattro anni fa era parroco di Gesso Palena, il quale fece una ricerca storica per accertare a quale di questi santi, che portano il nome di San Valentino, si debba attribuire la reliquie che abbiamo di un braccio che si venera a Gesso Palena del Santo. Uffici pubblici chiusi oggi in paese, ma la venerazione del santo è andata via via affievolendosi, tanto da rimandare la celebrazione in estate, associandola ad altri santi. È una venerazione che prima era sentita molto di più. Siccome capita d'inverno, allora la festa solenne si usa a celebrare a giugno oppure ad agosto, con le feste patronali. Però prima di questo giorno, questo giorno era preceduto da un triduo in onore di San Valentino molto frequentato nelle chiese e poi da una festa così solo religiosa a cui accorrevano molti fedeli. Oggi invece pure questa tradizione si va affievolendo. Nel noto sito internet dedicato ai santi e ai beati, si legge che l'onomastico si festeggia per antica tradizione il 14 febbraio in onore di San Valentino, prete romano, martirizzato nel 270 ai tempi di Claudio II il Gotico. Patrono dei fidanzati viene invocato per guarire dalle epilessie e contro i dolori di ventre. Molti santi, beati e martiri hanno portato questo nome. Tra i molti che la chiesa venera si ricordano un vescovo morto nel 273, patrono di Terni, venerato il 7 gennaio, in alcuni luoghi il 14 febbraio e in altri ancora il 20 ottobre. E diversi altri vescovi di Terracina, di Genova, di Treviri, di Verona e persino un papa morto nell'anno 827. Il mistero sul San Valentino venerato a Gesso Palina resta, ma la festa degli innamorati è comunque questa. E siamo alla pagina sportiva. Il Pescara è tornato ad allenarsi tra i disagi dell'impraticabilità dei campi di allenamento. Sabato ritorno in campo dopo 18 giorni dall'ultima gara disputata. Passata l'ondata di maltempo che ha tanagliato Pescara e l'Abruzzo, non si placano i problemi causati dalla neve ai bianco-azzuri di Zeman. Non solo il duplice rinvio che di fatto ha intasato il calendario di Sansovini e compagni, ma anche problemi seri legati alle strutture per svolgere i regolari allenamenti. Dunque spazio al coperto presso il Palarigopiano, casa della Ponzio Pescara e poi a Zanni con Zeman, pala in mano. Tutto questo in vista della gara di Bergamo contro l'Albinoleffe che sancirà il ritorno all'agonismo ufficiale 18 giorni dopo l'ultima gara disputata, quella di Crotone il 31 di gennaio. Parola al presidente Daniele Sebastiani. A Pescara una situazione di questo tipo forse si ripeterà fra 20 anni, quindi non ha vinto e non ha perso nessuno. Purtroppo siamo capitati dentro a questa situazione e guardiamo oggi come sono i campi dopo tre giorni di assoluto tempo buono, se vogliamo, e quindi vuol dire che ne ha fatta veramente tanta di neve. Io penso che domani si tornerà alla normalità per gli allenamenti e quindi riprenderemo poi sabato con il campionato. E a Lanciano sono cominciati oggi i lavori di ripristino del manto erboso del Bion di ricoperto di neve. Contro il Frosinone i rossoneri cercheranno il ritorno in zona playoff. Virtus a lavoro, a singhiozzo negli allenamenti, sempre causa neve. Il tour de force all'orizzonte non concede però distrazioni nella consapevolezza che in un mese il Lanciano conoscerà il suo destino. Domenica nel turno di sosta di prima divisione via libera al recupero col Frosinone con pagine di rango che sinora ha reso però molto meno delle aspettative. Carlo Mammarella. Il campo è ancora pieno di neve quindi comunque domenica sarà sicuramente allentato e noi dovremo essere bravi a sapere interpretare come partita. Credo che comunque sia le qualità della squadra, al di là poi del campo, possono anche verine fuori sotto altri aspetti però sappiamo che domenica è una partita importantissima. Si giocherà il Biondi con i lavori di ripristino del terreno di gioco che sono cominciati proprio oggi al lavoro una mini pala. Quanto tempo impiegherai per pulire tutto il Biondi? Penso una giornata, anche di più. Anche di più. Qual è il funzionamento di questo Bobcat? Vi va tutto lo strato? Dobbiamo abbassare il primo strato in modo che con il sole si riesce a sciogliere un po' di più quello che ci rimane. Quindi abbassare di una ventina di giorni? Il livello della neve, sì. Sotto la neve è ghiacciata però? Sì. Quanto secondo te il campo ne risentirà? Eh, questo non lo so dire di preciso però sicuramente ne risenterà qualcosa. Ovvio dunque che il campo sarà allentato ma almeno si tornerà a giocare dopo la sosta forzata di ben due settimane. Era accaduto in passato solo nel 1956 quando si verificò la nevicata storica ancora adesso ricordata. I mezzi all'opera però non bastano perché bisogna liberare anche gli spalti e allora questo l'appello. Io faccio un appello a tutta la tiforseria di Lanciano. Praticamente succede qua che due o tre giorni andiamo trovando personale per pulire gli spalti. Qua non si riesce a trovare niente e a fare niente. Domenica dobbiamo giocare e non sappiamo come fare. Allora io sto chiedendo per cortesia ai tifosi che se può venire domani mattina fuori allo stadio alle ore 9 e ci vengono a dare una mano. La società provvederà a ricompensare i tifosi volontari casomai con biglietti omaggio. Vedremo quanti risponderanno a questo appello. Intanto neve e ghiaccio continuano a condizionare i vari campionati di calcio. Quattro gare del turno infrasettimanale. La ventottesima giornata del girone B del campionato di seconda divisione in programma domani pomeriggio sono state rinviate dalla Lega Pro a causa della impraticabilità degli impianti. Le gare sono Celano Arzanese, Chieti Catanzaro, Fano Campobasso, Isola Liri, Melfi. Ed è tutto, grazie per essere rimasti con noi, vi lascio al Meteomax. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.